Sulle sette colline gemmate, al di là della settima cascata, vivevano sette creature dei boschi, in una piccola casetta. Mammolo, pisolo, dotto, brontolo, gongolo, cucciolo, eolo. E tutta la magia ebbe inizio da qui. Walt Disney Pictures è orgogliosa di presentare Biancaneve e i sette nani, in videocassetta e Disney DVD.